Vado, torno, trascinata da un elastico che mi muove e mi stringe, rimbalzo di nuovo qui. Cosa c'è questa volta per me? A Radia, la mia associazione. Faccio un laboratorio di teatro dell'oppresso per donne. Ma dove sono le donne? Le cerco e le trovo in un gruppo dal nome inaspettato. Si chiamano Vagine. Quando lo incontro, lo ripeto più volte, sorrido, imbarazzata ed esaltata. Appartengo anche io alla generazione delle parti basse. Così, da quando posso chiamarla con il suo nome, la chiamo di continuo. Mi lancio in questo cerchio di conoscenza, cura, liberazione. Rispecchiata in altre donne, mi vedo e mi ritrovo. Faccio i conti con la donna che non voglio essere, con quelle che voglio diventare. Sono un elastico. Il mio territorio mi ha legata stretta. Pretendeva di tenere tutto fermo. Oggi però, questo elastico non mi stringe.